La missione al cantiere è la prova. La produzione del missile di Kessler è a pieno ritmo. I componenti che ho trovato non potevano servire ad altro. Certo, abbiamo mandato all'area l'operazione, ma quanti di questi componenti sono già stati inviati ad Allagra? Quanto manca ai nazisti alla produzione di massa del nuovo missile? Una cosa è certa. La mafia rubava nel cantiere. E l'OSS intende sfruttare questo collegamento, specialmente visto il coinvolgimento della mafia nell'operazione ASCII, con la quale gli alleati hanno preso la sigilia. Weaver vuole presentarmi Salvatore Dinelli, un famigerato capo criminale. Crede io possa convincerlo a collaborare con gli alleati e partigiani. Ma tutto ha un prezzo. Ah, una bottiglia di Montenasca del 1913. Che meraviglia. Signor Dinelli. Chiamami Salvatore, è sufficiente. Non siamo amici, noi due? Abbiamo dei nemici in comune, vorremmo aiutarvi ad eliminarli. Lo vorremmo anche noi, amico mio. Puceste cominciare con Piero Capo, il capo delle pregate nere. Quell'uomo è un barbaro. Ah, davvero? Il monastero è pieno di capolavori, dipinte, sculture, opere bellissime. Ho saputo da fonte sicura che Capo vuole rimuovere quelle opere. Per venderle? Ma ovviamente. Quei tesori verrebbero pagati una fortuna sul mercato nero. Se sapessimo come ha intenzione di prenderli, allora vocemmo fare qualcosa. Ma certo. Per poterci davvero considerare amici, Capo dovrà essere eliminato. Ci siamo capiti, vero? Certo. Tutto chiaro. Bene. Capo indossa un rosario, un regalo di sua magia. Lui non se lo toglie mai. Portamelo. E saprò che avrai fatto il tuo lavoro. Ah, il cecchino. Dicono che vuoi esserci amico. La guerra forma alleanze imprevedibili. Il monastero e il regno di Capo. Per entrarci, devi conquistare la rocca. La rocca difende il monastero? Mhm. Sì, è logico. Sembra proprio che il monastero sia ben protetto. E per via della base. Aiutava i fascisti. Lavorava per loro. Tutto per difendere il suo prezioso monastero e i suoi tesori. Come dicevo, alleanze imprevedibili. Quei cannoni anticarro decimeranno gli alleati se passiamo da qui. Credi sia possibile? Per i tedeschi sembra di sì. Ora è tutto tranquillo, ma... È tutta la settimana che sparano a intermittenza. Potrebbero anche ricominciare. Meglio neutralizzarli, Carlo. Non c'è tempo di ammirare il panorama. Devo occuparvi di Capo. Non c'è tempo di ammirare il panorama. Salvi. Questo è un vero capolavoro. A che colori? Davvero a niente. È tutto. As faras. Qui non c'è altro 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 Non c'è altro Qui 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 non c'è altro Resta qui Qui non c'è altro 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 Che passione Qui non c'è altro 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 Non c'è altro Qui 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 non c'è altro